City Rapport E io ho un furgoncino e l'avevo partito al mattino e quindi ho rischiato che se non la metto più qua adesso la macchina la metto dentro lì, cioè l'all'angolo Eh, ma schifetto Ma allora io non dubito sul fattore che ci siano incivili italiani e non, eh City Rapport